Bentornati in questo nuovo video nel quale analizzo alcune squadre europee. Oggi è il turno della dea del Gasp. Prima di entrare nel dettaglio, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perdete tutti i miei nuovi contenuti. Il Gasp, in assenza di Zapata e Murrell, affia il peso d'attacco al mio Hollywood, che non mi delude, segnando reti approfusioni. Io da quando è arrivato in Italia ho detto, state attenti a lui. Quindi potrei parlare per ore di Hollywood, ma ci sono altri due giocatori fondamentali per il gioco del Gasp, ossia Teo, Copp Miners e Caleb Ocoli. Teo ha avuto una crescita esponenziale da quando è arrivato in Italia. Pure con l'Atalanta è difficile giocare, perché è una squadra che fa del cadenaggio il suo cavolo di battaglia. Sicuramente la dea è il lotto per lo scuoto, poiché, come l'Udinese, non ha impegni europei, e quindi hanno più tempo per preparare le partite e sono più freschi rispetto alle squadre che giocano ogni tre giorni.